...per poter adattare le colonne, gli elementi mancanti arrivavano qui lì, da una parte e dall'altra e quindi c'erano queste due colonne all'ingresso della chiesa ma nulla mi vieta pensare che ce ne fossero altri due qua in origine e che leggevano il pronao, questa sorta di viale coperto classico poi anche questo del periodo romano, quel pronao si usava moltissimo in quel periodo oppure quelle colonnine, come vi abbiamo mostrato a Santo Stefano non sono altro che una simbologia del bene e del male lo spirituale con il carnale, il celeste terreno con il divino è proprio una simbologia e se esisteva questo pronao dava accesso alla navatta così si chiama, la nave della salvezza, il timoniere è Dio adicina grazie 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 grazie